Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV Oggi ci occuperemo di sport, in particolar modo di basket, di pallacanestre Qui con noi l'allenatore dell'Olimpia Basket Comiso Davide Cercaldo Salve Ringraziamo il mister per aver accettato il nostro invito Allora mister iniziamo un po' a parlare della squadra Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati all'inizio del campionato Ricordiamo i tais spettatori che voi giocate in 0 e C2 I nostri obiettivi sono quelli di far crescere un movimento che negli anni è andato a scemare Per cui il mio ritorno e anche il ritorno di qualche giocatore che prima militava in Serie B Sempre qua a Comiso È frutto per far crescere il movimento Tanto è vero che noi all'inizio abbiamo cominciato con 20 bambini Ora ne abbiamo già 70 Per cui insomma il movimento si comincia a vedere Logicamente devi comunque avere sempre una prima squadra che ti traina questa cosa Per quanto riguarda il campionato Già il girono è andato e mi sembra che si sia concluso La posizione in classifica vi soddisfa? È in linea con gli obiettivi di inizio del campionato? Sì, sì, noi siamo soddisfatti Siamo terzi in classifica, due punti dalla seconda Che incontreremo già domenica Il nostro obiettivo, ripeto, è fare un bel campionato E attirare più gente possibile alla domenica al palazzetto E logicamente di conseguenza portare bambini alla pallacanestro Questo binomio tra giocatori di esperienza e giovani locali che voi avete inserito nella squadra sta funzionando? Sì, un po' a rilento devo dire con il mio rammarico Nel senso che i giovani purtroppo non sono abituati a giocare a questi livelli Per cui ci vuole più tempo del previsto Ecco, però io confido anche perché settimana dopo settimana li vedo crescere tantissimo Per cui sarà nostro compito, mio principalmente, metterli in campo il più presto possibile Per quanto riguarda i giocatori di punta C'è Pozzo che ha un'esperienza ormai da parecchiare C'è Mario Pozzo, c'è Peppe Diapico, poi ci sono tutti i ragazzi ragusani Che comunque hanno sempre fatto campionati di Serie C, Serie C2, Serie B2 Per cui, insomma, una buona squadra E questo, secondo me, è il giusto mix tra giovani e meno giovani Soprattutto quest'anno noi abbiamo riportato a casa Tra virgolette Ernesto Savarese e Emanuele Cilia Che sono due ragazzi che sono cresciuti nel nostro vivaio Che ci stanno dando una grossa mano Ecco, poco fa lei diceva Nel giro di pochi anni siete riusciti a portare molti più bambini In pochi mesi In pochi mesi Bisogna attenzionare appunto i settori giovanili, i vivai Specialmente in questo momento dove... Io penso che il futuro sia qua Penso che il futuro sia sui giovani Tutto sta comunque a noi allenatori Noi istruttori A dare anche delle motivazioni Perché i ragazzi vengano in palestra Perché è inutile negarlo Voglio dire Stanno sempre davanti O alla TV O alla Playstation Per cui non ci sono più i divertimenti Che c'erano una volta Che magari potevi anche Lasciarli liberi In strada Adesso ci sono molti pericoli E noi cerchiamo insomma di Leviare questi pericoli Portandoli in palestra Ecco, con la buddista societario E con la dirigenza Come avete pensato di costruire Ad inizio stagione Questa squadra Di allestirla Ecco, in quale maniera? Ma allestirla Diciamo che il nucleo è quello dell'anno scorso È quello dell'anno scorso Che ha fatto la Serie D Con Salvatore Scrofani E in più abbiamo inserito Tre elementi Praticamente Che sono due Che abbiamo già nominato prima Che sono Ernesto Savarese E Emanuele Cilia Il ritorno di Giovanni Cassiba Che è comunque un ragazzo Che è cresciuto anche lui Nelle giovanili dell'Olimpia E di Ciccio Di Stefano Che è un ragazzo Che fino all'anno scorso Giocava a Santa Croce Che era gusano anche lui Per cui non abbiamo Abbiamo uomini O giocatori da fuori Abbiamo tutti quanti locali Se si può Ormai Perché Ragusa Voglio dire Si può dire che è locale Per cui abbiamo allestito Una squadra Tutta locale Dove Con i tempi che corrono Non si possono fare Non si può fare diversamente Anche perché Soldi Ce ne sono pochi E niente Per cui Comunque abbiamo allestito Una squadra Discreta Una squadra Secondo me Anche più che discreta Il nostro obiettivo È quello Ripeto Di far crescere I ragazzi Che noi abbiamo dentro Ci può essere La possibilità Forse un po' difficile Di una promozione Diretta Oppure magari Ve la giocherete Ai playoff Diciamo che ci sono squadre Nell'altro giorno Perché poi appena finisci Il campionato Fai playoff E ti incontri con Le squadre Del girone A Il girone A Ti dico molto onestamente Ci sono squadre Che hanno speso Veramente tanto Dove ci sono Argentini Americani Bellorussi Cose allucinanti Sinceramente Che poi Voglio dire Anche là Se tu dovessi Andare su in C1 Poi devi smantellare Una squadra Per cui non lo so A che pro Possa servire Questa cosa qua Per cui ti dico Uno Sarà difficile Anche se noi Voglio dire Non andiamo in campo Sicuramente per perdere Due Il problema maggiore Che noi abbiamo Qua a Comiso Purtroppo Che non possiamo Fare un salto di qualità Un salto di categoria Perché Il nostro palazzetto Purtroppo Non è Diciamo A norma Per la C1 Per cui Non è omologato Dovremmo Immigrare a Ragusa O in qualche altro posto Penso che non sia Una cosa Fattibile Anche perché Il nostro obiettivo È quello di portare Più giovani E se tu non hai Una prima squadra Che ti attira Che fai vedere Qualche cosa Ai ragazzi Non ha Non ha modo di esistere Il rapporto Con il pubblico Com'è La domenica Guarda devo dirti Che dalla prima partita Fino a tutto il girone Di andata Abbiamo avuto Un crescendo Di pubblico E questa è Un'altra cosa Positiva Che ci fa molto piacere Che ci fa ben sperare Per il Per il proseguo In più domenica C'è stato proprio Il boom Anche perché Abbiamo fatto giocare Tra il primo E il secondo tempo Una squadretta nostra Per cui tutti i genitori Poi la partita Era calda Per cui era tutto Punto a punto Cos'è E sinceramente Devo dirti Che Sono stati bene I ragazzi Si sono divertiti E in più Durante la settimana Sendo insomma Commenti Positivi Dai genitori Ah non ero mai venuto Ora Verrò più spesso Cos'è Una parola Tira l'altra E fa sempre il giro Che abbiamo parlato Prima Stendendo un po' Invece Le discorse A tutta la provincia A Ragusa Ci sono Due belle realtà Specialmente una Che riguarda La pallacanestro femminile La Virtus Serena Che milita In serie A2 In serie A2 E poi c'è la nuova Virtus Anche se in questo momento Vive Un po' Di difficoltà Specialmente per la posizione In classifica Volendo fare un bilancio Diciamo che più di Difficoltà in classifica Io direi Difficoltà economiche Come è il movimento In generale Comunque devo fare un plauso Alla Virtus Irene Perché Sta costruendo Veramente qualcosa Di importante Cose che erano Anni fa Con la Virtus Poi sappiamo tutti Insomma Com'è finita Appena arrivata in serie A Quando si fa il passo Più lungo della gamba Poi Si finisce sempre così Però In questo caso Mi posso permettere Di dire Insomma Che non è la stessa cosa Con la femminile Io conosco Parecchi dirigenti Conosco Più o meno Il presidente Conosco Le persone che sono Attorno alla squadra Per cui sono tutte persone Che hanno Una certa intelligenza Per cui non faranno mai Quello che ha fatto Prima la Virtus Per cui io penso Che questa non sia Una favola A breve termine Ma sarà una cosa Consolidata Secondo me A lungo termine Ecco Quanto è importante La programmazione Specialmente poi Giocando ad alti livelli Principale Principale La programmazione È quella principale Però ti ripeto La programmazione Parte dalla prima squadra Però finisce sempre Un settore giovanile Perché se tu non hai Dei giovani dietro Prima squadra Ne puoi fare Però devi sempre Prendere i giocatori Da fuori E poi si ritorna sempre Sello stesso discorso Economico Soldi Questo e quello Per cui E poi non attira Neanche tante persone Perché voglio dire Vuoi mettere In una squadra Cinque Sei locali E invece Vuoi mettere Dieci giocatori Che vengono da fuori Non c'è neanche Interesse Della gente locale Questa cosa però Non mi permette di dire Forse è un po' strano Perché magari Quando vengono I giocatori da fuori O comunque I giocatori Ecco di categorie superiori Si attira Magari Un grosso pubblico Stai parlando Con una persona Che non viene Che non è Di qua Anche se voglio dire Ormai Sono venti E passa anni Per cui Insomma Mi posso ritenere Ormai Comisano A tutti gli effetti Però è vero Purtroppo è La mentalità Diciamo In generale Non del Comisano O del Siciliano È in generale E noi Stiamo cercando Insomma Di Andare Controcorrente E infatti Mi viene di pensare Al calcio Magari Dove sempre Si cerca di prendere Anche il giovane Talento Però straniero Da fuori Ma so Comunque adesso Io non mi sono Interessato tanto Giustamente Perché Tra il settore Giovanile Tra la prima squadra Mi porta via Parecchio tempo Però Mi sembra Insomma Da quello che so Che anche a Comiso Con il Comiso Calcio Non ci siano Tanti giocatori Che vengono da fuori Sembra che siano Parecchi locali Insomma Parecchi Della zona Per cui Già questo È un segno Voglio dire Che La tendenza Sta cambiando Ego mister Ci avviamo Verso la conclusione Voi Come Olimpia Basket State organizzando Per la fine Del mese Una bella iniziativa Di solidarietà Insieme ad altre due associazioni Parliamo di questa iniziativa Prima di salutarci Mi preme dirlo Mi preme dirlo E invitare Proprio Più gente possibile Il giorno 27 Faremo una manifestazione Con le due associazioni Vittime della strada E noi con voi Che è un'associazione Di disabili Al palazzetto Dove cominceremo Il pomeriggio Intorno alle 4 4-4 e mezza Dove giocheranno Tutti i bambini nostri Nel frattempo Ci sarà Un percorso Che porteranno Che porterà All'associazione Vittime della strada Dove Faremo Istruzione Per i ragazzi Proprio Le segnaletiche stradali Tutte queste cose qua Poi Alla sera Ci sarà il clou Praticamente Di cui io Ringrazio tantissimo Anche il commiso calcio In persona di Borgese Perché ha dato Il suo Consenso Faremo Una partita Squadre miste Un tempo Calcio E un tempo Cioè un tempo calcetto Un tempo palacanestro Diciamo che tutto Ricavato Sicuramente Andrà Diviso A queste due Associazioni Per cui io Invito Tutti i comisani E anche Persone Della provincia A venire Il giorno 27 A vedere Insomma A dare Una mano A queste due Associazioni Bene Mister La ringraziamo Per essere stato qui Con noi Grazie a voi Per l'invito L'appuntamento Con i nostri Telespettatori Invece per la prossima puntata Di 15 minuti con E quindi URB Invece per la prossima puntata Un video Invece per la prossima puntata Invece per la prossima puntata Grazie per la visione!